dai Giorgi mi dici perché ridi sempre quando mi scambi il video, non vuoi sapere perché? quando ti dico inizio tu fai sempre certe facce vabbè ma non potevo presentarsi così a stamini dai fammi in serio perché ha fatto quello spaghettino che vongole era buono dai allora intanto per cominciare voglio salutare due amici Adriano Maiemi e Chef Varta e Mancini di Villa Versace un abbraccio grande e poi salutiamo tutti gli amici che stanno fuori che ci scrivono da Singapore, Argentina e adesso Canada grazie a tutti logicamente a quelli italiani e a tutte le città, a tutti quanti stasera andiamo a fare una cosa, a me è meglio darire quando ti fai i piatti andiamo a fare dei grossini, dei grossini con calamari e crema di grigia mazzarola, non mi sembra che c'entra anche i calamari, c'entra 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 ti facciamo vedere gli ingredienti? certo, ok allora guanciale, calamari dog, pecorino romano, vino bianco, olio, sale, pepe e pane ok, dai, siamo intresciati Giorgi, e va bene, fa niente allora, perché vado a mettere l'oglio? non lo so lo vuoi di messare a pisciare Giorgi che devi fare dai? allora, andiamo a tagliare il guanciale, lo tagliamo tutti a listarelline? a liste a pezzetti, ecco così, dai ok, va bene dai, Giorgi, andiamo a mettere il guanciale senza olio, senza niente, così lo vedete che ho preso il wok oggi? si, infatti ci ho fatto caso ma andavo da qui a questo oggi e vabbè per cui ora lo fai croccare là lo faccio croccare e poi lo sfumiamo con un goccio di vino bianco, dai hai deciso tutto te, Giorgi? io l'ho fatto, ora ormai io, ormai vado da sola allora, vedete, se sta croccare mi raccomando, fammelo croccare bene deve essere croccante ma Giorgi, io ve l'ho detto a questi amici stasera allora, stavamo pensando stasera dato che oggi è giovedì versi di dieci e mezza dieci, dieci e mezza, sì dieci e mezza dieci e mezza, va bene, scusate dieci e mezza devi fare una diretta dove voi fate le domande a Roby qui la cucina che ne dite? così siamo un po' insieme siamo un po' insieme si divertiamo un po' nel frattempo il guanciale è croccato? no, no, aspettiamo un altro po' dai dai Giorgi, andiamo a sfumare tutti i schiappi vediamo Marcello io si è ha del meraviglia Giorgi dai che non fa niente Giorgi va bene allora, lo lasciamo un attimo, pure a due minuti nel frattempo tagliamo i calamari a metà e li andiamo a fare tutto all'izzarelle dai Giorgi, lo vedi? sì dai allora adesso che fanno? non lo so spegniamo il guanciale ok lo togliamo sì e lo andiamo a mettere dentro al mix cioè dentro al frullatore eh? però prima facciamolo freddare un po' non mettiamo l'olio bollente eh famolo freddare un po' dai dai ma la stessa fadella in questo caso è il guaccio ci andiamo a mettere i calamari ti piacciono Giorgi? ah sì sei curiosa da avere questo piatto come esce fuori eh? sì e ora lo faccio vedere non ti preoccupa dai nel frattempo che si coce nei calamari noi andiamo a mettere il pane al forno eh dai un pizzichino di pepe e un pizzichino di sale così a crudo eh a secco dai nel guanciale poi ci andiamo a mettere pecorino romano e andiamo a frullare dai guarda che esce fuori Giorgi eh? dai Giorgi sfumatina di vino bianco dai dai Giorgi se i calamari sembra vitella per quanto si ottene ti ha sentito? si 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 meraviglioso poi andiamo a spegnere Giorgi il pane abbiamo abbruscato i calamari abbiamo fatti la crema di criciamo fatti potevamo andare fin in piattamento certo dai Giorgi Giorgi abbiamo fatto un piattino così a volo però regà questo se se qualche amico invitate qualcosa gli fate fate un figurone semplici semplici ma sono da paura Giorgi un quadro va dai eccolo qui ragazzi io non vi voglio di niente ma è buonissimo logicamente sparmate la crema sopra il pane e ci posate i calamari dai un bacio a tutti un abbraccio a tutti salutiamo tutti e ci vediamo dopo così siamo insieme dai un abbraccio grazie